Gentili telespettatori, buona giornata. L'inchiesta sui voli di Stato, la Procura di Roma chiede l'archiviazione per Matteo Salvini. L'utilizzo dell'allora ministro degli interni ha rispettato i criteri di economicità e celerità e sempre nell'esercizio delle sue funzioni. La Lega dice nessun abuso e nessun danno, era reale. Quindi la Procura di Roma, collegio per i reati ministeriali, ha chiesto l'archiviazione per Matteo Salvini nel procedimento sull'uso dei voli di Stato dell'allora ex ministro dell'interno. Lo fa sapere la Lega specificando che durante il suo mandato al Viminale Salvini non ha commesso abusi nell'utilizzo dei voli di Stato e ha rispettato i criteri di economicità, celerità, espostamento e di impiego razionale delle risorse e sempre nell'esercizio delle proprie funzioni di ministro dell'interno. Su questo io non avevo alcun dubbio, era tutto un caso montato ad arte da Sinistra e giornali compiacenti. Grazie a tutti e buona giornata.